ah questo è forte magnesio e potasio questo è importantissimo per noi sportivi quando sentiamo una stanchezza che ne sai di stanchezza parlo con te di stanchezza poi questo è buono lo prendo le fate troppo aperte come confezioni queste qui è che erano 250 calorie sai ne ho per un quarto d'oro ancora poi ho finito su problema io stacco le venti